Musica Il soldo sfortunato per i cattolica nel girone F di Serie D, la formazione neonata in estate con la denominazione cattolica San Marino a cui capo, Vigel, ex Cesena Luca Mancini affronta in esterna una delle favorite alla vittoria finale del torneo In Matelica che quattro mesi prima arrivando seconda nel proprio girone di Tui Cesena conquistò anche la Coppa Italia di Serie D L'inizio per gli ospiti non è dei migliori, all'undicesimo in Matelica sbrocca la situazione con Peroni Il giovanotto mette a sene una punizione di Bugaro respinta sui propri piedi da Aglietti Per il classe 2000 arrivato nella sessione estiva si tratta di un esordio fortunato bagnato appunto con una marcatura In Matelica continua ad avere una prevalenza territoriale, Leonetti ne approfitta infilando per la seconda volta la porta cattolichina con una traiettoria velenosa dalla distanza che inganna Aglietti per il 2-0 dopo appena 18 minuti Il cattolica si vede solo sul filo di primo tempo con questa conclusione di Rizzitelli respinta in corne da Orbitis Nella ripresa appare una partita più combattuta e che sia tutt'altro cattolica si vede fin dalle prime battute anche se il Matelica fa paura ma Gianluca Rizzitelli dall'altra parte una volta penetrato in area di rigore con un tunnel ai danni dell'avversario riapre giochi ed incontro La squadra di Cassione esprime un bel gioco, pare possa guantare il pareggio, lo scatenato Rizzitelli ci prova prima con un tiro a giro fuori misura e poi con una concursione dalla distanza centrale bloccata da Orbitis Ma sul più bello, in Matelica riesce ad arrivare a Trissi con Tomasini, bravo di testa a sfruttare un corner proveniente dalla destra infilando Aglietti per la terza volta Il cattolica ha subito il colpo, lascia la manovra ai padroni di casa, lascia Massetti Valenti va vicinissimo al poker se non fosse per attento Aglietti, bravo anche in quest'occasione termina qui la gara con i marchigiani che prevalgono per tre reti a uno